L'ex premier e leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha fatto tappa a Pesaro, dove ha visitato la città assieme ai candidati in corsa per le europee e le amministrative di giugno della provincia di Pesaro e Urbino. Un'occasione che Giuseppe Conte ha colto anche per visitare i luoghi simbolo della città, da Casa Rossini ai Musei Civici, per poi fare tappa a Palazzo Gradari, dove l'ex premier ha affrontato vari temi, a partire da quello delle europee e della futura coalizione nella quale il Movimento 5 Stelle andrà ad inserirsi. Avremo un gruppo di europarlamentari che saranno determinati per una svolta verso la pace, per contrastare la corruzione, l'abbiamo vista anche in Europa con il Qatargate e altri scandali, per completare e continuare una transizione verde, senza costi ovviamente, finanziando e limitando l'impatto su famiglie e imprese e ovviamente vogliamo un'Europa anche contro l'austerity e un'Europa per riconoscere a tutti i pieni diritti e soprattutto dobbiamo adesso tutelare gli organi informazionali, la libertà di stampa a qualsiasi livello. Giuseppe Conte ha poi aperto una parentesi sulla città di Pesaro e sul Movimento 5 Stelle pesarese che nel 2019, con l'accordo di alleanza siglato tra il sindaco di Pesaro Ricci, e l'assessore 5 Stelle Frenquellucci ha anticipato i tempi di quella che poi è la grande alleanza del centro-sinistra sul panorama nazionale. Qui è stata anticipata una traiettoria, c'è un'esperienza amministrativa dove noi abbiamo portato dei risultati di cui siamo orgogliosi, su vari progetti ovviamente in linea con la nostra sensibilità, trasparenza, la possibilità di coinvolgere i cittadini in progetti utili, curare anche l'aspetto della transizione, sostenibilità ambientale, abbiamo promosso varie iniziative in campo culturale e dell'innovazione. Quello che è importante è proseguire questo dialogo ovviamente con rispetto reciproco della pari dignità e la possibilità ovviamente di approfondirlo, perché se ragioniamo poi in vista anche di una prospettiva nazionale, dobbiamo costruire una forte alternativa alla destra ed essere competitivi. Per fare questo occorre riempire un progetto di contenuti e non dire semplicemente l'unità, unità, stiamo insieme. Per fare cosa? Da Pesaro arriva poi anche la replica dell'ex premier Conte in merito alla via libera per quanto riguarda la fiducia al super bonus arrivato da parte del Senato. Evidentemente il governo vuole mascherare i propri fallimenti, quindi si aggrappa al super bonus, tra l'altro litigando internamente come ben noto, però non ten conto dei danni che fa a famiglie e imprese, ancora una volta, ma ormai è una costante, pensiamo agli extra profitti, anche lì non si ten conto del fatto che ci sono famiglie, imprese in difficoltà, c'è stato un caro mutui, addirittura molte case vanno all'asta e il governo riesce a prendere un euro dalle banche.